Ho scelto questa razza perché ho dei bambini piccoli e quindi ho visto che sono cani molto docili, molto affettuosi e molto affidabili. Questi cani sono i più grossi, i segugi più grossi che esistano. Sono stati selezionati ormai da mille anni per la ricerca e la traccia della grossa selvaggina. Ancora oggi vengono usati per la caccia cinghiale e si comportano né più né meno come gli altri segugi. Il loro vantaggio è che hanno un naso finissimo, quindi possono rilevare tracce che altri cani fanno fatica a rilevare e hanno una voce talmente potente che li fa preferire tante volte ad altre razze che danno meno soddisfazioni durante la seguita. Personalmente ho cominciato circa 25 anni fa a selezionare questa razza, prima per la caccia e poi per la ricerca delle persone scomparse.